Si è tenuto giovedì sera l'evento di presentazione del libro a cura di Pierdomenico Baccalario e Marco Ponti intitolato Le cose importanti, che racchiude gli insegnamenti di Gianluca Vialli. La serata è stata organizzata dalla cooperativa sociale Ollus Agropolis, in collaborazione con La terra nel cuore e il PAF. L'evento ha messo in risalto lo spessore umano del grande campione cremonese, ricordato da tutti i presenti come un esempio di vita per le giovani generazioni. Per qualsiasi delle sue manifestazioni da giocatore a mio collega giornalista Sky e poi come ho avuto modo di dire nella serata cremonese la sua capacità nel tratto finale della sua esistenza di ispirare con il suo comportamento e con la sua forza tutta una serie di persone lo stavano ascoltare, tra i quali i più importanti sono gli azzurri nella nazionale che nel 2021 finesse l'europeo. Ho citato appunto quel discorso che lui fa prima che la squadra salga sul pullman per andare a gettare al finale, un discorso tratto dal presidente Roosevelt, nel quale viene ascoltato in maniera religiosa dai giocatori perché capiscono che quello che stanno ascoltando e soprattutto la persona che sta loro parlando è qualcosa di irripetibile nella loro vita. Aver condiviso un pezzettino di viaggio e soprattutto aver avuto il privilegio di raccogliere i suoi pensieri proprio in vista, di metterli da parte e poi condividerli con altri, quello per me è stato un privilegio enorme, prima con il film La bella stagione e poi dopo con il libro Le cose importanti. Stare con lui erano quei casi in cui da adulti comunque ti trovi ad avere, come si può dire, la fortuna di avere uno al quale attribuisci il ruolo di maestro perché lo ascolti con più attenzione, lo ascolti con più impegno, vedi in lui delle spiegazioni su determinate cose che ti toccano personalmente, che ti rendono tutto un pochettino più nitido.